E siamo a Matera dove si è svolto, come vi accennavamo, quasi in apertura di telegiornale, oggi un incontro sul patrimonio immobiliare pubblico. Aiutare gli enti locali a promuovere, gestire e valorizzare il loro patrimonio immobiliare. L'obiettivo dell'iniziativa organizzata a Matera dall'Agenzia del Demanio, che ha incontrato numerosi sindaci lucani per fornire loro il supporto e gli strumenti necessari. Hanno risposto all'appello ai sindaci di Potenza e Matera e di altri comuni, rappresentanti delle province di Matera e Potenza e della regione Basilicata, che sono coinvolti nelle principali operazioni sul territorio. Insieme ai sindaci, insieme ai comuni, stiamo definendo in ogni territorio quale destinazione migliore, quale vocazione migliore possa avere un bene dello Stato, un bene dell'ente territoriale che non è usato. Ma qual è la situazione in Basilicata? Intanto in Basilicata il cosiddetto federalismo demaniale, cioè il trasferimento gratuito dei beni dello Stato immobili ai comuni è molto avanzato. Quasi l'80% dei beni richiesti sono stati già trasferiti. Considerate che in Italia la media è di circa il 50%, quindi la Basilicata rappresenta una punta molto avanzata. E il riuso e il recupero degli immobili per scopi sociali per contrastare l'emergenza abitativa sul territorio e la possibilità offerta dall'articolo 26 dello Sblocca Italia, strumento flessibile e innovativo che permette ai comuni, tramite una procedura cadenzata in 60 giorni, di richiedere allo Stato immobili non più utilizzati anche da altre amministrazioni. Parliamo di calcio scommesso e la società...